Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al km 283 si registra un chilometro di coda tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Sempre in direzione Roma un chilometro di coda anche tra Firenze Scandicci e Firenze Sud a causa di un veicolo fermo in avaria al km 297-200. Sulla 1 direttissima si ricorda che stanotte in orario 21.6 per lavori di manutenzione delle gallerie rimarrà chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 Panoramica e Aglio in direzione Roma, collegamento con Bologna garantito dalla 1 Panoramica. Città di Firenze per lavori di miglioramento della sicurezza idraulica a partire da domani, giovedì 10 ottobre, Lungarno Diaz rimarrà chiuso tra Ponte Alle Grazie e Piazza Mentana. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!